Vorrei aprire questa puntata con una poesia che ho scritto quando ero giovane, esattamente il 9 settembre del 98. Io quindi avevo 26 anni e moriva Lucio Battisti quel giorno lì. E io ero su un taxi, è arrivata la notizia e ho scritto subito quello che mi veniva da scrivere. E questa è la poesia. Si imparava la discrezione e quello che ci rimaneva. Si parlava di tanto altro ancora. Ogni volta che c'è un funerale c'è qualcosa da fotografare. Chissà cosa vi avrei fatto vedere se non fossi stato anch'io quel tanto distratto da dire che la vita sarebbe comunque continuata. Il giorno che morì Battisti avevo 25 anni. Pino Strabioni. Morgan.